Nicola Crapsi, nato a Santa Croce di Magliano nel 1899, morto a Roma nel 1965, fu sindaco socialista di Santa Croce, subito prima del fascismo e dirigente comunista negli anni della Seconda Guerra Mondiale e nell'Italia Repubblicana. Crapsi fu sindacalista della CGL per un lungo periodo ed il primo parlamentare nella storia del Molise, una figura ricordata anche nel libro del professor Massimiliano Marzillo che ne svela lati sconosciuti. Il libro è costruito, il mio saggio contenuto nel volume curato da docenti dell'Università del Molise, analizza la figura di Nicola Crapsi sulla base quindi di una documentazione in gran parte inedita reperita prevalentemente a Roma presso l'archivio del Partito Comunista, presso quindi l'Istituto Gramsci oppure presso l'archivio centrale dello Stato e altri archivi insomma. Vengono evidenziate le luci e le ombre. L'aspetto positivo di Nicola Crapsi è molto noto e in effetti viene messo tutto ciò in luce. Vi sono però anche degli aspetti negativi, luci e ombre insomma traspaiono come ad esempio l'assenza dell'attività antifascista di Crapsi oppure ecco la lotta interna che fu combattuta con metodi non prettamente politici molto spesso ad esempio ai danni di Michele Fiorella o del dirigente e deputato Ferdinando Amiconi. Quindi siete giunti a queste conclusioni attraverso un lavoro certosino insomma particolarmente impegnativo? È stato un lavoro, la ricerca è durata anni e un lavoro senza dubbio molto paziente e davvero certosino. Alla fine insomma diciamo che non vengono negate le questioni positive legate a Crapsi, prevalentemente che sono quelle che lo vedono dirigente del dirigente sindacale. Sotto il profilo politico invece è lì che trapelano insomma le maggiori criticità. Una figura dunque inedita di Crapsi tracciata nel libro il cui autore è pronto a confrontarsi con quanti non ne condividono l'impostazione.